Un momento storico che dopo 12 secoli doveva trasmettere un'immagine unitaria dell'ortodossia. Il tanto a lungo atteso concilio panortodosso rischia invece di diventare un vistoso fallimento. Nel gennaio scorso i patriarchi delle 14 chiese autocefale e ortodosse avevano deciso a Chambesì in Svizzera di fissare la data del 19 giugno e luogo Creta per l'appuntamento con la storia. Dopo oltre mezzo secolo di preparazione e 1300 anni di vuoto, tutti i patriarchi avevano firmato un documento preparatorio alla grande assise dell'ortodossia. Non senza malumori che subito avevano provocato crepe e fratture nel paziente lavoro di dialogo e comunione svolto in gran parte dalla chiesa di Costantinopoli. Prima i bulgari, poi la chiesa giorgiana, da sempre critica e fortemente restì all'evento e infine l'antica chiesa di Antiochia hanno messo in discussione l'appuntamento defilandosi e sollevando riserve sul documento preparatorio, in particolare su alcuni nodi il sacramento del matrimonio, le relazioni con le altre confessioni cristiane e quelle con il mondo contemporaneo. L'effetto domino ha poi travolto altre comunità come quella serba che in un tira in molla poco convincente ha infine deciso di essere presente a Creta. Sullo sfondo il confronto tra Costantinopoli e Mosca, il braccio di ferro tra i due patriarchi che da secoli si misurano in forza ed autorità, ma anche le diverse posizioni sui rapporti con Roma, che con il pontificato di Francesco ha mostrato la ferma volontà di conquistare anche interlocutori impossibili al dialogo ecumenico, come lo storico incontro di Cuba con il russo Chiri l'ha mostrato. Indubbiamente pesa nella decisione di partecipare o meno al concilio anche l'urgenza con cui la gerarchia ecclesiale percepisce i bisogni della società moderna. Il realismo di alcuni patriarchi non smuove altri arroccati su posizioni conservatrici e rigoriste. E se nei giorni scorsi il patriarcato di Mosca aveva proposto una riunione preliminare per appianare difficoltà ed evitare lacerazioni, la risposta perentoria con cui il patriarcato di Costantinopoli aveva respinto la richiesta lasciava presagire l'acuirsi delle tensioni e l'inaspirsi della crisi. Fonti turche riferiscono di una dura lettera a firma di Bartolomeo indirizzata a Chiril in cui si bolla come ridicolo lo spettacolo che l'ortodossia sta dando alla vigilia di un concilio giustamente definito epocale. Da poco a Mosca si è conclusa l'ennesima riunione considerata decisiva in cui si è insistito per un rinvio. Il processo sinodale rischia di naufragare così tra ripicche antiche e quanto inutili contrapposizioni.